Il comune di Fisciano fa parte della rete dei sindaci e insieme a più di 30 comuni sta facendo questa battaglia contro la Gori. Oggi siamo in compagnia dell'assessore al bilancio del comune di Fisciano, Franco Gioia, che ci illustra un po' come si stanno organizzando per contrastare quelle che sono le bollette pazze delle partite pregresse ante 2012. Una definizione un po' aleatoria. Sì, in effetti queste bollette pazze come sono state poi descritte anche dai mass media riguardano questi recuperi ante 2012 che poi in effetti ante 2012 era dicitura ma in effetti il calcolo è stato effettuato sul consumo medio dell'anno 2012. In ogni caso noi crediamo e siamo convinti che queste bollette non debbano essere pagate dai contribuenti perché sono del tutto illegittime. E proprio per questo stiamo tentando tutte le strade per cercare di farle annullare. Abbiamo predisposto e fatto inviare per raccomandare a tutti i contribuenti, a tutti i cittadini del nostro comune, del comune di Fisciano, un reclamo per la sospensione di queste fatture, di queste bollette. Dopodiché ci stiamo organizzando con le associazioni di categoria per predisporre un ricorso cumulativo da presentare al Tribunale di Napoli affinché un giudice si può esprimere sul pagamento o meno di queste bollette. Noi siamo convinti che sono illegittime al 100%. Al proposito Assessore ricordiamo anche ai contribuenti e agli utenti che ci stanno seguendo la grande manifestazione che si terrà proprio a Napoli il 17 gennaio. Sì, anche per questo voglio fare un invito a tutti i cittadini del nostro comune affinché partecipano alla manifestazione pubblica che si terrà il 17 gennaio a Napoli proprio per manifestare contro la Gori. Anche perché noi come comune di Fisciano stiamo cercando di uscircene insieme chiaramente ad altri comuni di mettere in liquidazione, di chiedere alla liquidazione della Gori. Tanto è vero, abbiamo creato una rete dei sindaci del lato 3 per la liquidazione della Gori. Siamo partiti in 5 dal comune di Roccapiemonte, abbiamo firmato questo protocollo d'intesa al comune di Roccapiemonte nel 2013. Eravamo 5 o 6 comuni, adesso non ricordo preciso. Oggi siamo diventati 30. Abbiamo un problema perché la Regione avendo commissariato lato, noi non possiamo andare in assemblea e chiedere la liquidazione della Gori. Perché oggi questo sarebbe possibile se potessimo andare in assemblea e svolgere una regolare assemblea del lato. Questo non è possibile in quanto la Regione ha commissariato lato il 31 dicembre del 2012, dal 1 gennaio del 2013, un commissariamento che doveva durare 6 mesi e ne sono trascorsi circa 24 e il commissario è ancora al suo posto. Quindi noi anche su questo abbiamo impugnato tutti i provvedimenti che ha emesso il commissario dopo i 6 mesi e sono stati impugnati davanti al TAR, abbiamo in discussione al TAR un ricorso il 14 gennaio. Quindi è tutto un po' in evoluzione. Credo che comunque nei prossimi 60 giorni al massimo avremo qualche risposta più concreta. Solo un ultimo aspetto, Assessore, perché questa vicenda della Gori, oltre ad assumere il carattere giudiziario, diciamo che sta assumendo anche un carattere politico, perché il Partito Democratico a Fisciano ma anche a Mercato Sanseverino sta allestendo diverse iniziative. Ricordiamo che comunque Mercato Sanseverino è un comune la cui giunta, retta dal sindaco Giovanni Romano, è pro-Gori. Però c'è l'opposizione appunto del PD che sta cercando di contrastare questa situazione, diciamo, molto difficile per i contribuenti. Diciamo che in effetti, secondo me, non è una questione di PD, anche se io sono un testato del PD, ma non è una questione del PD piuttosto che centro-sinistro, piuttosto che centro-destra. Dovrebbe essere una questione di buonsenso e di andare a favore dei cittadini, perché onestamente non si possono più sopportare i soprusi che la Gori ogni santissimo giorno fa sui territori del lato 3. Con minacce di staccare anche l'acqua ad alcuni utenti? Non solo con minacce, vengono anche staccati i contatori agli utenti morosi. Quindi non è una questione né di centro-destra né di centro-sinistra, è una questione, secondo me, di buonsenso. È chiaro che Mercado Sanseverino è pro-Gori. Ricordiamo che il sindaco di Mercado Sanseverino è l'assessore regionale all'ambiente, dal quale chiaramente ci aspettiamo ancora oggi una legge regionale che dovrebbe poi rimediare a quello che è stato in passato. Ma chiaramente questo non succede. Cioè la regione a Lagori, c'è stato un decreto nel 2012 che è stato chiamato decreto Salvagori, gli sono stati abbonati, tra virgolette, 70 milioni di euro e altri 70 milioni spalmati con un mutuo che Lagori non ha mai cominciato a pagare. Quindi è chiaro che il conflitto di interesse che il sindaco di Mercado Sanseverino ha su Lagori è evidente. In quanto assessore all'ambiente della regione Campania, è chiaro che... Poi, voglio dire, ripeto, ribadisco, non è una questione di centro-destra piuttosto che di centro-sinistra. È una questione, secondo me, di buon senso che i politici, soprattutto in questo periodo, dovrebbero prendere a cuore. Ma vedo che c'è ancora poca disponibilità. Quindi, assessore, l'appello è quello per un fronte comune per affrontare questa battaglia? E' certamente che dovrebbe essere un fronte comune perché tutti gli organi istituzionali che poi di centro-destra o di centro-sinistra credo che sono stati eletti da quei cittadini che oggi sono vessati da Lagori. Dopodiché c'è chi si assume le proprie responsabilità e chi fa orecchie da mercante. E poi saranno sempre i cittadini a giudicare nel momento in cui si va a votare. Ma vedo che anche questo, poi, quando si va a votare, non è che viene proprio preso tanto in considerazione. In ogni caso, noi cerchiamo di fare quello che è nelle nostre potenzialità. Poi, voglio dire, facciamo tutte le lotte, tutto quello che dobbiamo fare. Poi vedremo risultati da qua, credo, al massimo 60 giorni.